Ehi, ma cosa succede? Vedo persone che si vogliono bene e poi, ma sono parole di troppo, per i forzi. Che tutto veda storto e poi, un dato ti passa, ma si tratta solo di come un parente. Aspetti ore e ore che si faccia vivo, invece niente. Il tempo passa, e c'è che aspetti, un qualcosa che mai arriverà. Na 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 na, na 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 na. Non ti aspetti a farne ricordo un addio. A cercare la luce che prima eri in te. Non ti aspetti a farne ricordo un addio. Non ti aspetti a farne ricordo un addio. Na 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 Tu hai vissuto la giornata, il profondo dei tuoi pensieri, delle tue paure, delle tue emozioni, poi, ma senti questa voce che sonnisce alla tua, è la voce della tua memoria, ma non si può tenere sempre ciò che vuoi, ma ti deve contattare, ma che aspetti a farti ricordi un addio, può cercare la luce che prima eri in te, ma che aspetti a farti ricordi un addio, può cercare la luce che prima eri in te. Io non credo che tu faresti lo stesso per me, ma non credo che tu faresti lo stesso per me, No Grazie a tutti.